Ciao ragazzi, adesso facciamo 10 minuti, facciamo un po' di esercizi misti con il nostro total body crunch. Cominciamo a spingere con le gambe, aspetta mi vado poco poco in avanti, scusate così ci avete, un bel chiaro dietro di me. Allora, se spingo con le gambe non mi alzo, ok? Se tiro con le braccia è un po' più difficile. Veramente è più facile tirare con le braccia che spingere con le gambe perché comunque la leva di questo attrezzo ci fa questo. Però, guarda che possiamo fare, questo è molto carino, possiamo cambiare anche la presa sul manubrio. Portiamo le mani sotto, portiamo i gomiti verso le costole e cominciamo a fare un lavoro proprio per i bicipiti. Ok, mi darete, aspetta, faccio ripartire il mio cronometro. Facciamo un minuto, un minuto e guardate i bicipiti, vedi che i bicipiti si stanno attivando. Vedrai che le gambe spingono un po' di meno e il modo per, tra virgolette, salvaguardare la vostra stanchezza è passare la forza dall'arte superiore a quella inferiore e viceversa. Spingi con le gambe, spingi con le gambe, lascia le braccia lì, vedi che non le sto tirando tantissimo e poi cambio, uso le braccia. Ok, così facciamo 10 gambe e 10 braccia. Siamo pronti? Ok, gamba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, braccia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gambe. Di nuovo, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10. Braccia, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gambe dammi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, spingi giù i talloni così senti più sul gluteo. Poi braccia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mi fai l'ultimo giro, dai, gambe, 10, 9, spingi con i talloni e senti che attivano i glutei. Ancora, 4, 3, 2, e le braccia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Cambiamo la presa, cambiamo la presa. Però, Jill, bel lavoro, infatti, toto body crunch per tutto il corpo, quasi, non tutto. Però, un altro, diciamo, clip, ho detto che non lavoro gli abdominali, ma non ho parlato degli obliqui, ok, obliqui. Questa fascia, diciamo, laterale, punto vita, questa fascia che ci agguanta, nostro punto vita, possiamo lavorarlo? Sì, come lo facciamo? Lo facciamo portando entrambe le braccia sullo stesso lato del manubrio e sono un po' sbilanciato. Porto il gomito a questo lato e chiudo il gomito, qui, scendo qui. Più chiudo il gomito, più sentirai che si contraggono le proprie braccia, diciamo, proprio l'obliquo e, diciamo, i dorsali. Continuiamo. Lo facciamo un minuto. Guarda l'orologio e rema. Ovviamente le gambe sono inconvolte, provate di concentrare il lavoro più su le braccia e su questo gomito che chiude, che chiude, che va. Ancora 45 secondi, poi cambieremo lato. Ti dovrò dare le spalle, vi chiedo già scusa. Ora, però, dobbiamo bilanciare il nostro lavoro, perché voglio farvi anche capire che, dipendendo di come applico la pressione sulla leva, che è quella che mi solleva il peso corporeo, andrò a tonificare o a sollecitare una zona piuttosto di un'altra. Ancora 20 secondi. Uno dice, però, la teoria della relatività. 60 secondi, fate così, sì, sembrano un po' più lunghi di un minuto, è vero? Ok, ancora 5, and 4, and 3, and 2. Cambia. Mani dall'altra parte, chiude il gomito. Sempre per un minuto. Controllo e tiro, controllo e tiro. Io non so voi, ma per me l'allenamento è vita, mi fa sentire più forte. E ultimamente, superando i miei 54-55 anni, ho notato che, per salvaguardare i muscoli, diciamo, avere un muscolo tonico, avere un muscolo pieno, avere la pelle che è tonica e non molliccia, si deve dedicare più agli allenamenti proprio di potenziamento. Cora 25 secondi. Così, tutto il body crunch va a ceccio, come si può dire, e tutto il body crunch ci aiuta a fare, che in casa è molto difficile fare, cioè i dorsali. I dorsali di solito devi andare in sala pesi, perché hai bisogno dei macchinari importanti, perché i dorsali sono forti. Ok, la nostra schiena, come i glutei, sono gran gruppi muscolari che hanno bisogno di cariche importanti. Torniamo al centrale. Ok, adesso vi invito di appoggiare una gamba sopra e l'altra sotto, e spingo solo con una gamba. È come se stessimo facendo uno squat bulgaro o un chino alla corte, con solo una gamba, e la facciamo sempre per un minuto. E sto spingendo sulla gamba, le braccia rimangono tese, sono convolti, ma non stanno lavorando. È il gluteo del lato, in questo caso la mia gamba sinistra. Non so come lo state, quale gambe state utilizzando, però tanto dobbiamo fare un minuto per lato. E continuiamo, scudatemi ancora 30 secondi, e poi cambieremo la gamba. E senti come caricare tutto su una gamba solo, ti dà veramente un bel signore allenamento. Siamo ancora a 15 secondi in questo lato, poi cambiamo. Spingo, spingo, addominali tesi, continuo a lavorare. E diventa un lavoro, sì, è vero che mi sto tonificando, ma sto anche lavorando. Ok, cambio gamba, minuto, spingo e scendo, spingo e scendo. E quando faccio un minuto a lato, sentirai il lavoro. Non dico come sta la pesi, ma quasi. Ok, veramente intenso, perché quanto pesi? In caso mio, peso su 65 chili, questa gamba sta sollevando, non 65 perché le braccia mi stanno aiutando, però voglio avere 40 chili. E quella vuol dire tanta roba. Vuoi avere il gluteo più tosto, più sodo, più tonico? Vuoi la coscia che quando lo tocchi senti i muscoli e non le diciamo marshmallow? Allora permettiamoci a lavorare. Ok, continuiamo a spingere con quella gamba. Spingo con quel tallone, oh sì. Quanti secondi ci ne mancano? Ci mancano 13 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and 3, and 2, and 1. Ok, ci mancano 3 minuti per il nostro bel allenamento total body. Oggi è volato, eh? Questo allenamento ha volato. Volato perché stiamo facendo tanta roba e stiamo anche cambiando i diversi esercizi. Divarico le mani, ok? Divarico le mani e adesso porto i gomiti larghi e busto in avanti e andiamo a lavorare. Fino alle scapole. Respiro. Tiro. Respiro. Tiro. Respiro. Tiro. Respiro. E tiro. Ancora 30 secondi. Poi finiremo in bellezza con un minuto per lato. Soltanto del, vogliamo chiare squat bulgare o lo vogliamo chiamare a fondo. Poi tanto il concetto è abbastanza similare. È una gamba solo che solleva il peso del corpo utilizzando il tallone. Però questa volta useremo l'ultima gamba con cui abbiamo finito. Ultima gamba. Non andare sulla stessa gamba. Ancora cinque secondi. Quattro. E tre. E due. Ok. Appoggio. Questa è l'ultima che ho usato. Spingo e scendo. Spingo e scendo. Minuto per lato. Lo sento tutto. E veramente provi di spingere su quel gluteo. Vai. Busto in avanti, busto in dietro. Vai. Oh sì. Concentrati al lavoro sul tallone. Il ginocchio di quella gamba. E allineato con il dito medio del piede. E spingi. Vai. Boom. Dopo di questo facciamo l'altra gamba. E i nostri dieci minuti. Cari amici. Saranno finiti. Poi andando avanti vedrai che ci sono tanti di questi blocchi di lavoro con total body crunch. E potete abbinarli. Magari cominci con uno. E poi aggiungi l'altro. E alla fine ti tiri fuori un allenamento di 30 minuti. di tutto rispetto. Continuiamo ancora. Quattro. Ancora tre. Ancora due. E cambio la gamba. Ultimo minuto di lavoro. Spingo. E scendo. Spingo e scendo. Negli anni è stata molto divertente perché i miei clienti dicono ma tu con un attrezzo ginico riesci veramente a tirare fuori un sacco di allenamenti. Sì perché quando hai un attrezzo ginico a casa a me piace che la puoi sfruttare in tre mila modi per non annoiarti mai avere il massimo con il minimo sforzo anche economico perché con un unico attrezzo ginico prove di darti tutto e anche in poco spazio perché non è che abbiamo queste case hollywoodiane con 18 milioni di stanze dove noi sappiamo dove mettere tutto. così con un singolo attrezzo ginico riusciamo a fare tanto 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 per il nostro benessere. Ok. Siamo alla fine ragazzi. Sono ultime 14 secondi. Io immagino che state sentendo l'acido lattico. Sono contenta perché vuol dire che stai facendo un gran signore lavoro. Ricordate questi esercizi anche per quando ti stai allenando da solo. And stop. Scendi giù. Appoggia. And relax. Ok. Senti. Quanto ti sei, diciamo, sudato, quanto hai lavorato. Tiri indietro con la schiena. Allunga, allunga, allunga. Riappoggia. E ricordate sempre che vi ascolto. Mi piace ascoltarvi. Mi piace anche rispondere alle vostre richieste più velocemente possibile per darvi l'opportunità di allenarvi in casa. Dieci minuti al giorno ti porterai a casa un, diciamo, un risultato. La costanza. La costanza ci premia sempre. Ricordate che io sono sempre qui per fare questo. Scusatemi. Stimolarvi, motivarvi per fare proprio questo. Diventare costantemente migliore di noi stessi. Ogni giorno provando di superarci. Vi voglio bene. Passate una giornata figatosa. E vi aspetto sempre sui miei social per motivarvi di più. Baci dalle Jill. Vieni a scoprire il mio mondo su gilcooper.it E vi aspetto. Grazie per la visione